Brugman recupera palla, poi allarga il pallone per Tabi, la finta, Tabi il destro, il gol. C'è stata la deviazione di Fargione, bravo Tabi che si è inserito. Poi un tocco sotto a superare il portiere Fargione. Tabi all'altezza di 18 metri, terno destro, quasi a giro, a dire il vero, con la palla che ha spolverato la traversa della porta difesa da falso. Promossi a pieni voti anche quest'anno. Attenzione Tabi, Tabi il suo destro e c'è il gol. Ha fatto tutto molto bene, è entrato in area e poi ha incrociato tutto questo alla 38esimo minuto. Il terzo gol, il tris, firmato da Wille Tabi. Livoriano che è stato prestato dall'Atalanta al Pescara, la sessione estiva di calcio mercato, se ne parla benissimo, insomma ha dato già un saggio delle sue capacità.